Eccoci qua con il nostro video commentatore Marco Di Fazio per commentare una partita ricca di golle 5 a 4, vittoria fondamentale degli over the top sui Babel, raccontaci tutto Babel, sì, infatti una vittoria, cioè una bella partita tra gli over the top e Babel Vittoria sofferta da parte degli over the top e comunque complessivamente non hanno proprio manito di vincere Perché per quanto riguarda hanno giocato benissimo, infatti hanno sofferto da una parte della partita Sì, infatti i Babel erano tipo in vantaggio per buona parte Sì, in un tempo erano sopra di un gol, poi appunto i over the top sono usciti ma dobbiamo consigliare che hanno fatto 4 gol su 5 da fuoriare Ah, con tiri dalla distanza Si dì alla distanza, quindi non hanno espresso un gran gioco Invece i Babel hanno disposto comunque una buona partita anche dal punto di vista dell'intensità Però dalla parte della sfortuna, dalla parte di non essere concreti Non sono usciti appunto a quantomeno appareggere questa partita Forse diciamo nel momento in cui stavano sopra di un gol potevano capitalizzare meglio qualche contropiede Sì, sì, questo sicuramente, però ti ripeto, non sono stati abbastanza concreti Andiamo sul dettaglio dei gol Allora, il periodo del top appunto hanno sentito due gol di Gian Bruno, quindi hanno dato una doppietta Si conferma appunto uno dei migliori in campo Poi è un gol di batti, un bel gol da posizione del filato Un bel gol di controbalzo Ah, bene, bene, per favore Poi la duicella è Aurelio Beh, c'è il Babel È da segnare appunto una buona prestazione di Pellegrino Che è oltre al gol segnale È il debutto per Pellegrino È colettito da un gol e da una munizione Però anzi da due gol e da una munizione Quindi è fatto occhietta Sì Poi è per un gol amaroso Un gol e un gol Sironi Comunque, beh, c'è da dire Nel primo tempo partì equilibrata Sì Con appunto i top che passano subito in vantaggio Poi appunto i Babel cominciano appunto a prendere campo Questa rimuota In gioco Sì Infatti appunto raggiungono prima il pareggio Con Sironi Poi dopo passano in vantaggio con Aurelio E poi appunto i Babel Riescono a riprendersi segnalando prima il 2-2 e poi il 3-2 Certo Poi nel secondo tempo appunto i Babel Non sono riusciti a concretizzare l'azione che hanno avuto E al contrario Gli OVD Top sono riusciti invece A continuare la distanza A acciuffare il risultato E anche a sorpassare il Sironi Il gol del 5-4 è arrivato verso la fine? Verso il finale? No Verso il finale no A metà secondo tempo? Sì Comunque questa è una parte molto equilibrata Quindi forse Un po' lungo per la parte del Babel Sì poteva essere forse un pareggio dici tu Per quello che hai visto in campo Sì Anche se comunque posso dire Che se adesso è venuto in Babel Non ci sarebbe stato scappone Infatti Perché comunque Babel hanno giocato meglio rispetto a I OVD Top Però comunque vogliamo provare Cioè vogliamo comunque Trovare dei Diciamo dei punti positivi per I OVD Top E comunque conquistano una vittoria fondamentale No sì certo Chi è che ti ha colpito di più? A parte Gian Bruno È comunque A parte la bocchetta È sempre decisivo Poi vabbè È sempre una squadra E comunque Magari in momenti difficili Riescono anche con un pizzico di fortuna A risolvere la partita Comunque Gian Bruno è il miglior in campo La partita dei suoi Sì sicuramente Poi altri in fase difensiva E comunque mi pare che hanno retto Nei contropiedi dei Babel Quando i Babel stavano sopra Sì diciamo E comunque Ti ripeto Sono sti Menocinici Rispetto ai OVD Top Cioè rispetto ai OVD Top Sì OVD Top Però ti ripeto Anche in merito di Sassone Comunque Comunque Qualche bella parata Però comunque I Babel Sostrano un po' fortunati Quindi diciamo Che i Babel Comunque Hanno trattato bene Però non sono sicilici A poter chiudere la gara Cioè sono venuti Più facilmente Verso la porta Sì Verso la porta Senza riuscire a capitalizzare Le occasioni Peccato E quindi Questa mancata Questi mancati gol Diciamo che avrebbero potuto Chiudere la gara Da parte dei Babel A chi sono imputabili Tra i vari attaccanti Amoroso Pellegrino Sì vabbè Gli attaccanti Comunque Sia Pellegrino Sia Sassone Amoroso Però La palla non è entrata dentro Quindi Giornata appunto Storte per loro due Va bene Va bene Allora Ringraziamo il nostro Marco Di Fazio E alla prossima Ok ciao